Ringrazio Boggetti, ringrazio per l'invito, è un momento molto particolare questo, quello della pubblicazione del codice di Asso Biomedica. Faccio due piccoli però appunti. Allora, se vogliamo una formazione senza conflitto, in realtà sponsor privati possono sponsorizzare senza problemi, se sono banche, fondazioni su progetti trasversali, conflitti di interesse ovviamente non ce ne sono. Se utilizzo dei fondi destinati per la formazione nelle strutture private del sistema sanitario nazionale, prendo soldi da fondi che sono costituiti apposta per quello e quindi sono in assenza di conflitto. Ma l'altra cosa è se utilizzo, come scritto nei contratti di lavoro, almeno un 1% del monte stipendi previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro, avrei a disposizione una massa talmente ampia che probabilmente gran parte della formazione, che è essenziale per i professionisti della sanità, almeno nel pubblico, potrebbe essere garantito in assenza di conflitto di interesse. Vediamo però al potenziale conflitto. Quindi, l'interesse dell'industria qual è? E far conoscere prodotti e procedure per la necessità di mantenere l'azienda in equilibrio economico. E' ovvio, faccio il mio lavoro, devo mantenerli in equilibrio. E investire su una formazione utile allo scopo dell'attività dell'impresa. Ovvio che sia così. Il codice etico di assomio medica, quindi, che cosa fa? Utile strumento per finanziare la formazione, obbligatorio, visto che lo Stato, in realtà, quel famoso 1%, non lo mette a disposizione. Perché se lo mettesse problemi ce ne sarebbero molti meno. Allora, serve che ci sia un aiuto dall'esterno. E quindi, finanziare con un gran formativo la società scientifica in grado di fornire e offrire un prodotto scientificamente valido in linea con lo scopo sociale dell'azienda, diventa particolarmente importante. Una cosa importante che è scritto nel codice etico, nel 2019, la non selezione dei partecipanti agli eventi formativi dà una garanzia del non cointeresse del singolo associato. Quindi queste sono ciò che l'industria può fare in assenza di conflitto. Perché è essenziale per l'industria? Perché se io non riesco a far conoscere ciò che io faccio e qual è la cosa giusta che io faccio, non riesco neanche a vendere sotto quel punto di vista. Devo usare meccanismi corruttivi di altra natura. Per rispondere invece a quello che è stato chiesto prima alla dottoressa Cerbo, e prima Boggetti ha anche detto, allora, se è vero che io ho bisogno dei medici per provare, per vedere nuove apparecchiature, e se è vero che più uno si interessa di quello, più è in conflitto, devo trovare un qualche d'uno che mi dia delle assicurazioni ulteriori. Quindi, se io chiedo ad una società scientifica di indicare qual è il professionista adatto per fare in modo che si possano fare delle scelte corrette, do la responsabilità della scelta, non al professionista, ma alla società scientifica. Qual è il problema di fondo? Che la società scientifica potrebbe bruciarsi. Nel momento in cui io scopro che la società scientifica ha indicato una persona che è in palese conflitto, si brucia la società scientifica. Faccio il pari di quello che succede nei provider. Se io come provider formativo faccio delle irregolarità, Agenas sa che cosa vuol dire, perché segue questa cosa, io che cosa faccio? Brucio la possibilità di fare la formazione, quella che ha come scopo fare la formazione. Quindi devo stare molto attento nella scelta. Quindi è un'assunzione di ruolo, è una identificazione di una persona, anzi di un ente, che si assume la responsabilità di dire io ti do il massimo esperto, ben sapendo che se quella persona ha lavorato esclusivamente per quell'azienda non è certamente oggettivo. Ma se quella persona ha lavorato per quell'azienda e per aziende anche concorrenti è in grado di esprimere quali sono le cose migliori o peggiori. Allora perché no questo? E quindi la logica è che in questa logica come FISM noi abbiamo proposto non un codice etico FISM, che non ha senso sotto quel punto di vista, perché ogni società scientifica deve avere il suo codice etico se vuole farlo, ma è quello di dire che quando io parlo per nome e per conto della società scientifica io devo fare una disclosure verso la società scientifica. Io devo essere al corrente se tu hai avuto rapporti con l'industria e quindi può essere un'opportunità quello di farti parlare o una non opportunità di farti parlare per non bruciare la mia visione della cosa. Quindi benvenga al discorso della società scientifica. Ritornando al discorso dei finanziamenti che abbiamo visto prima, se io faccio in modo che come società scientifica do un contributo veramente oggettivo alle aziende sanitarie, utilizzando soldi delle aziende sanitarie, ma dando dei contenuti che sono scientificamente validi, a quel punto io ottengo due cose. Primo, di fare una cosa che manca in Italia, cioè un qualcosa che sia comune a tutto il paese. Non è possibile che una regione dice una cosa, un'altra dice un'altra. Magari poi ci sono anche impostazioni che sono di interesse, cioè mi interessa non portare avanti un certo tipo di discorso, perché non ho i soldi per pagare quel tipo di prestazione. Quindi quello che io faccio è, se io riporto al centro, utilizzando le società scientifiche che si devono strutturare per far questo, per dare una informativa e una formazione corretta, che sia uguale per tutto il paese, potrò portare a un grosso risultato. Quindi questi sono i suggerimenti che vogliamo dare. E per questo so anch'io che molti poi attaccano le società scientifiche, sono tante, sono di parte, sono interessate. È vero, non dico di no. Però ricordiamoci una cosa, che quando io ho società monolitiche, poi dopo è peggio. Mentre se io ho la pluralità e metto attorno a un tavolo le persone discutendo che cosa hai da dire tu nel piccolo, che cosa hai da dire tu nel piccolo, posso trovare qualcosa che sia utile. Questo vuol dire far parlare alle persone e vedere le sfaccettature che molti non vedono. Vi faccio un esempio. Io ho parlato a un convegno di odontoiatria per l'handicap. La gente si è messa a ridere. Io ho detto, voi dovete capire una cosa, che il paziente odontoiatrico che ha un handicap non lo cura nessuno. Non lo vuole nessuno. Quindi se c'è una società scientifica che si dà da fare per dire qual è il sistema migliore per andare incontro a queste persone, è valore aggiunto. Quindi queste sono le cose da fare. Quindi creare un problema etico, eccetera. Per quanto riguarda il discorso etico, il codice etico di Asso Biomedica è per gli associati di Asso Biomedica. E quindi la cosa corretta è che, come diceva anche Cantone, tutti noi collaboriamo per fare in modo che funzioni. Quindi se l'industria mi viene a sponsorizzare dicendo guarda io però voglio che venga quella persona, devo essere io il primo a non accettare, il secondo a dire che c'è questo problema. Per quanto riguarda i medici, ricordo che il codice che regola il lavoro dei medici è il codice della FNOMCEO, della Federazione degli Ordini, dove c'è scritto che non devi accettare premi se non che di piccola entità. Quindi in realtà i codici ci sono. Il problema è farli rispettare. Infatti io ho sempre detto quando vedrò qualcuno essere buttato fuori dall'ordine dei medici per un problema del genere, beh, ovviamente con sentenza passato in geducato. perché se no la logica è diamo la colpa a tutti poi scopriamo che distruggiamo la carriera di persone che magari non c'entrano niente. Quindi il problema è grosso. Quindi la logica che io voglio portare è senso di responsabilità e valori. Queste sono le cose. Questo probabilmente porterà ad una selezione anche delle società scientifiche se ci basiamo su queste cose. Grazie. Grazie.